Mi è sempre piaciuto vedere la realtà che mi circonda sotto tanti punti di vista, leggendo ed approfondendo argomenti diversi, dalla tecnologia alla filosofia. Con il tempo ho capito l'importanza di maturare una visione globale della realtà, in quanto l'insieme è sempre molto di più delle singole parti che lo compongono. Ciò mi ha permesso, un po' alla volta, di imparare a navigare nella grande complessità che ci circonda, individuando possibili tracce di cambiamento. Alcune di queste tracce si trovano in mezzo al mare di informazioni presenti in ogni organizzazione. Il punto è trovare la rotta giusta. Un'informazione non si trasforma mai in vera conoscenza, sino a che non si collega ad altre informazioni. Se ho le coordinate geografiche ma non ho la mappa, non posso affrontare una navigazione in mare aperto. Poniamo ad esempio di avere un cassetto pieno di fotografie. Prese singolarmente rappresentano forse solo un ricordo. Raccolto in un album possono diventare una storia compiuta. L'album diventa una nuova informazione e con la sua lettura migliora in questo caso la conoscenza di me stesso. Nel mio lavoro io sono il ponte tra le informazioni grezze e la conoscenza potenziale che esse possono esprimere, aiutando così le aziende a costruire le proprie mappie di navigazione. Maggiori sono le informazioni e disposizioni, per esempio sui clienti, le vendite, la concorrenza e maggiore è la possibilità di acquisire nuove conoscenze per rinnovare e migliorare il proprio prodotto. L'isola che non c'è spesso è davanti a noi, per trovarla però bisogna imparare a guardarla con occhi nuovi.